Presentata ufficialmente la seconda edizione pescarese di Ironman 70.3 Italy, l'evento sportivo estivo più importante di Pescara, dell'Abruzzo e tra i più importanti d'Italia. Circa 2.000 atleti provenienti da 50 paesi del mondo con un indotto davvero spettacolare, pauroso per certi versi. Ma gli organizzatori di Weekend Sport Events stanno allestendo tutto per bene per farsi trovare pronti l'8, il 9 e poi il Clou di domenica 10 giugno.